allora questo qui è un coltellino beh mi ricorda la svizzera uno degli oggetti sicuramente più famosi quando uno pensa alla svizzera sempre i coltellini svizzeri e questo è uno dei tanti che abbiamo a casa qui invece una foto lo chalet che avevamo in montagna in svizzera alle maricotte d'inverno è un posto in cui ho tanti ricordi e poi qui una campanella di quelle piccoline insomma delle mucche anche questa non mi ricordo la svizzera